Sognuno per il PD Che è la mia M*****e? Mi aveva una gabbina? Mi aveva una ragazzina? Mi aveva un'unione e fece un'accenta ..me non aveva una scuola una maschola e si mangia la fratata. Allora, per le questioni ci hanno ancora un giudice. Il signor giudice dice che una ragazzina m'nana m'nana che per voi non mi fa trappertà m'nana m'nana e ci sono due maschola e ci sono le mangiate. Un giudice dice che una bacchetta dice, no, tiene che questa bacchetta, e dove dà la maschola? Lancia. Dalla stessa, nella maschola ci sono due due giudice. Porco, venne già detto, sopura a questo giudice, faccio due maschola.